Abbiamo perso questo passaggio amministrativo, la destra si è dimostrata solida, competitiva, come sapevamo fosse, quindi ha ribadito queste sue caratteristiche. Il Partito Democratico torna ad essere comunque protagonista, a svolgere la sua funzione. È chiaro che noi sapevamo benissimo che non si sarebbe risolto in pochi giorni. C'è un nuovo corso che deve prendere l'abbrivio. Abbiamo di fronte mesi importanti e passaggi elettorali che ci aspettano nel prossimo anno decisivi, importanti come quelle che abbiamo passate, quindi cercheremo di lavorare al meglio in questo senso, provando a chiamare a raccolta tutto il Partito, provando a dare forza e sostanza a quella fase costituente che non si è conclusa con il Congresso. Quindi tutto il gruppo dirigente sarà chiamato a svolgere una funzione fondamentale e centrale e a interpretare questa esigenza di cambiamento che quel Congresso e anche questo passaggio amministrativo confermano. Mi pare che il Partito abbia reagito in maniera compatta e unita e consapevole di una cosa, che noi se vogliamo tornare ad essere centrali davvero, dobbiamo portare al centro i temi, le cose che interessano le persone e non le nostre dispute interne. Ma questo credo l'abbiamo capito da questo passaggio congressuale, lo dimostra anche in modo in cui abbiamo reagito al Congresso dal giorno dopo, affrontandolo con assoluto senso di maturità. Penso che fondamentalmente il tema dei campi sia ascrivibile a divisioni di lungo corso, tutte interne alla famiglia del centro-sinistra, delle quali ognuno di noi portiamo responsabilità, anche il sottoscritto, per non essere riuscito a superarle del tutto. E quindi è quello il successo. Se il centro-sinistra si fosse presentato unito, il centro-sinistra unito avrebbe vinto probabilmente al primo turno. Così non è successo. È successo, perché l'abbiamo visto ieri, con un pezzo importante della destra che vota il candidato della sinistra più radicale, o comunque della sinistra più netta. E quindi io credo che però, al di là di questo, auguro al sindaco Tagliaferri di fare un buon lavoro. L'ho sentito ieri sera, appena ho avuto la conferma che c'era l'ufficialità della sua vittoria. E auguro a Leonardo Fabri, che è stato davvero bravissimo, di riuscire a fare, a svolgere l'elemento di ricocitura di quella comunità di cui noi in questi mesi e in questi anni probabilmente siamo stati deficitari.